Sarebbe stato venire meno ad una correttezza amministrativa che invece la regione con molta coerenza ha sempre seguito fino a qui. Ha suscitato una serie di reazioni e critiche la decisione della regione toscana di assegnare ad Autolinea e Toscane S.P.A. la gara unica regionale per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma in tutta la Toscana. Il decreto è stato pubblicato il 3 di maggio. Secondo il presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni si doveva attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato. Questo avrebbe provocato un ritardo nella possibilità di fermare il contratto a partire dall'inizio del prossimo anno chiunque sia il vincitore secondo il Consiglio di Stato. Questo produrrebbe l'andare in obbligo di servizio, irrigiderebbe il sistema, provocherebbe la scarsa possibilità di fare nuovi investimenti, una cosa che tutti vogliamo evitare ad iniziare dai sindacati. Il primo dei ricorsi sarà discusso il prossimo 10 ottobre davanti al Consiglio di Stato, ma intanto sono preoccupati anche i sindacati sul fronte, in questo caso, delle risorse. La regione ha messo su questo percorso di gara circa 75-80 milioni l'anno del suo bilancio. Queste sono risorse che sono garantite. La preoccupazione deve essere in riferimento al Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico, perché noi abbiamo già avuto un taglio di 5 milioni e altri 25 ci potrebbero mancare se non si determinano condizioni dell'economia che il Governo in maniera troppo ottimistica ha previsto.